Ed ora ci occupiamo del convegno sulla giornata mondiale sulla sicurezza informatica. Safe Internet Day, giornata mondiale sulla sicurezza informatica, se ne è discusso nell'aula magna dell'Istituto Ferrari di Chiaravalle in un convegno che ha visto la partecipazione del capitano della Compagnia dei Carabinieri di Soverato, Marco Colì. Sì, sicuramente è un problema che è molto sentito tra noi adulti ma anche tra le nuove generazioni, quindi è importante parlarne, l'arma dei Carabinieri nell'ambito dei contributi per la legalità intende effettuare questi incontri con i ragazzi e aprirsi a quelle che sono comunque queste campagne di informazione perché la prevenzione passa attraverso un'informazione quindi ritiene molto importante l'incontro di oggi perché permette di aprire anche delle riflessioni oltre all'incontro effettuato e quindi analizzare quelle che sono le problematiche delle nuove generazioni. Sì, il pubblico devo dire molto attento, a merito degli insegnanti evidentemente che hanno riuscito ad accattivare l'attenzione prima che l'incontro si sviluppasse e quindi ha consentito di rendere utile questo incontro e soddisfare anche me che non facciamo i docenti, non sono un docente e mi mette in condizione di essere aperto alle loro domande che non ci sono state perché comunque l'attenzione anche agli altri docenti è stata massima su questo argomento quindi credo che abbiamo colto tutti gli aspetti anche di loro curiosità e interesse. Sì, ragazzi, ultimamente quando vado soprattutto nelle classi vedo che porgono diverse domande hanno curiosità soprattutto su come si devono muovere sul web e a tal proposito approfitto pure per dire che qui a scuola stiamo iniziando anche una serie di corsi pomeridiani sulla cyber security, soprattutto rivolti ai ragazzi del BN, un po' più piccolini perché sono ancora un po' più acerbi in materia e quindi vedo un qualcosa di propositivo qui al Ferrari quest'anno per me sono entrato quest'anno qui a scuola ma grazie sia alla disponibilità del dirigente e dei docenti si vuole fare un qualcosa di positivo in ottica futura e nell'ottica dell'informatica quindi direi che ci siamo, il Ferrari for future. I pericoli della rete sono tanti ed è importante che se ne parli a scuola se ne parli in generale durante le ore le lezioni c'è una sensibilità anche da parte della scuola è stato detto, è organizzato anche un corso sulla cyber security ma è importante anche che degli operatori che si occupano anche della repressione dei reati dei crimini informatici parlino ai ragazzi e devo dire ancora una volta l'arma dei carabinieri il capitano Colì, molto sensibile diciamo anche alla didattica è una bellissima lezione quella che ha fatto oggi sul tema della criminalità informatica ma più in generale anche quali sono gli strumenti per poter prevenire la repressione di questi reati ha fatto ancora una volta segno credo che sia intrapreso un percorso, questo anche che riguarda l'informatica che è importante per la scuola e fra i suoi indirizzi e quindi su questo stiamo anche puntando, ripeto, il corso sulla cyber sicurezza questo incontro di oggi, che poi è un incontro che non si tiene, sono qui e a livello anche nazionale abbiamo anche promosso l'intervento del ministro online ci sono alcune classi che stavano vedendo, anche seguendo il tema di cyber security da parte del ministero credo che sia un passo importante per la nostra scuola che porteremo avanti nel futuro e abbiamo raccolto anche l'attenzione di tutti gli indirizzi si erano presenti tutti gli indirizzi qui, l'istituto agrario lo scientifico, liceo scientifico, liceo linguistico l'istituto tecnico con le sue indirizzi biotecnologico e meccanico attenzione sul tema dell'informatica, non possiamo farne a meno Subito dopo il Tg, l'intervento integrale del capitano Marco Colì Grazie mille! Grazie mille!